Questo è il mio pensatoio, uno dei tanti in realtà, ma uno di quelli più tranquilli. Una volta la chiamavo l'isola dei gabbiani, ma i gabbiani non ci sono più, ce n'erano un sacco, d'inverno stranamente, e qua c'è una ruota, questo video sarà un po' diverso dagli altri e me ne dolgo perché è un periodo in cui tutti i video mi vengono un po' male. C'è un'emergenza di cui voglio parlare, ma non è quella del coronavirus, anche se oggi è domenica 8 marzo, auguri alle donne, ironia della sorte, anche se le donne che conosco io si incazzano se gli fai gli auguri solo l'8 marzo, voglio dire, venirebbe a trattarle bene tutto l'anno, giusto? No, non riguarda il coronavirus, anche se magari più avanti ne parleremo un po', riguarda la faccenda personale, che uno dice perché la fai in un video se è personale, perché questo potrebbe essere l'unico modo che ho per lasciare un messaggio a questa amica, c'è su una cosa molto brutta, vedete io facendo questo video derogo a una regola, a una promessa che avevo fatto, di non trattare argomenti troppo tristi e seri in questo canale, che è un canale di evasione. Purtroppo vi parlo di una volta che ho violato un'altra delle mie regole, la mia regola era non dare dati personali a gente conosciuta su internet, con cui si famicizia in modo virtuale, ma senza far conoscere indirizzo, numero di telefono etc. Ho fatto una sola derva a questa regola, per una sola persona che era questa amica, di cui non voglio neanche dire il nome, la chiamerò Antonella, che non è il nome vero. Ho fatto un'eccezione perché era immensamente triste e piena di problemi e mi sembrava brutto tenerla a distanza in quella situazione così tragica, però a conti fatti ho capito di aver sbagliato a violare la mia regola, perché poi la situazione è un po' degenerata insomma. E' accaduto e questa mia amica che è perennemente triste e disperata in un posto senza fondo di negatività, ha incominciato a fare cose un po' strane, tipo telefonare alle 3 di notte, telefonarmi quando è ubriaca, fradicia e non è molto rilassante perché ci sono quelli che hanno la sbornia allegra, che è divertente, ma lei ha la sbornia triste e quindi una o due ore consecutive a cercare di consolare una persona che non capisce quasi neanche quello che dice e d'altronde lo stesso vale di te che capivo poco quello che mi diceva. Il problema insomma è che l'altra notte, avesse domenica, la notte tra venendì e sabato, l'ho dovuto bloccare, bloccare il suo numero, Whatsapp, SMS, tutto quanto e mi è dispiaciuto, ma non ne potevo più, perché purtroppo questa negatività, questo pessimismo e questa sofferenza continua non riuscivo più a gestirla perché già anch'io i miei problemi, come si suol dire, e fra l'altro sono a contatto con una persona che è mio fratello, che oltre ad avere sempre un sacco di problemi, è anche sempre triste, questa è quella, è quella specie di, come posso dire, dose di ottimismo, di positività che avevo si è consumata già con lui tanti anni e l'ho esaurita, per cui questa mia amica Antonella sarà un po' sorpresa che la blocco adesso, nonostante che in passato abbia fatto cose anche un po' peggiori di quella delle notte di venerdì, ma è il discorso della goccia che fa traboccare il vaso, è quello il punto, il problema non è nella goccia, è nel vaso che era completamente pieno, una volta, oltre alle solite telefonate notturne, mi ha telefonato che sembrava che lo stesse ramazzando, poi scompare, io continuo a chiamarla, a cercare di contattare per sapere qualcosa perché l'ho preoccupato e lei per settimane non mi risponde, poi un giorno mi telefona per famiglia auguri, non so di compleanno cosa, e veniva fuori che ha un brutto rapporto con il cellulare e a volte non lo usa per un po' di tempo, però mi ha fatto stare preoccupato per molto tempo, è inaiutabile nel senso che qualunque cosa le consiglia, le dice non posso questo, questo non funziona, questo non va bene, si ha l'impressione di non riuscire a fare nulla, mia sorella che conosce i fatti della vita, quando riparò della situazione mi disse è inutile, conosco anch'io persone così, non possono essere aiutate, non vogliono essere aiutate, rascinerà soltanto te nel fondo la disperazione e io all'inizio speravo che non fosse vero, perché a volte minacciava il suicidio, mi diceva non mai risposto addio per sempre a tutti o così, come se stesse per suicidarsi, poi non si suicidava, ma tutta questa negatività, vedi Antonello io lo so, tu sei finito in un giro vizioso e non sei l'unica, molta gente finisce in quel giro vizioso che è come un gorgo, come una specie di spirale nell'acqua, come si chiama? Un gorgo dove uno viene risucchiato, il giro vizioso qual è? Tu stai male, ci sono cose tristi e quindi sei triste, sei triste, sei piena di negatività, risultato è che la gente non è molto contenta di stare con te, con questa persona che continua a dire cose disperate, per cui si allontana da te, tu sei più sola, sei ancora più triste e allora sei ancora più negativa e ancora di più la gente si allontana da te, è un giro vizioso, bisogna uscire dal giro vizioso, è difficile e per farlo bisogna avere una funzione anticiclica, diciamo così, andare in direzione opposta alla corrente, uscire fuori come a vite, in pratica vedi Antonello tu hai anche un lato positivo, quelle volte da successo in cui non ero ubriaca, eri simpatica, divertente, mi ricordo sempre dei tuoi aneddoti sulla tua paura per le lucertole o sul cammino che ti ha affumicato la casa o su quelle strane cose che faceva il tuo cagnone mentre dormivi, in quei casi non era un sacrificio stare con te a parlare, quello è il tuo lato positivo, ognuno di noi è un lato positivo con il lato negativo, chi è il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, oppure Dr. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, è normale, soltanto che l'errore è quello di cercare di contattare la gente quando sei nel tuo momento peggiore, lo so che viene spontaneo perché quando uno sta male, che vuole aiuto dalla gente, ma il guaio è che in quel momento, soprattutto se sei ubriaca fra di cercare la verità, non mostri il lato migliore di te, ed è difficile, molto faticoso, starti dietro in quei momenti, il trucco qual è? Fare quello che fanno tutti, mostrare solo il lato migliore di sé, in quel momento fare amicizia, coltivare i propri rapporti sociali per migliorarli magari, quando invece si è di umore nero, isolarsi per non danneggiare ulteriormente i propri rapporti con le altre persone, è difficile perché lo so, ti viene istintivo quando si sta male a cercare l'aiuto, ma in pratica bisogna fare così, è l'unico modo, se tu mostrassi solo il tuo lato positivo avresti un sacco di amici e le persone anche molto vicine a te in famiglia non ti avrebbero boicottato, d'altronde pensa a questo Antonella, come ti spieghi questo fatto che tutte le persone che ti sono vicine ti abbandonino? Perché sei sfortunata? È un complotto globale? Perché? Tutti sono diventati malvagi? Non è ragionevole pensare questo, quando accade che tutte le persone che conosci tratti in un certo modo è perché evidentemente c'è qualcosa in te che spinge queste persone a trattarti in quel modo, non si sono accordati prima per boicottarti, perché purtroppo quando tu stai male assumi atteggiamenti un po' sgradevoli, questo fatto di minacciare sempre il suicidio, di far sentire in colpa anche la persona che ti sta aiutando perché magari non ti ha risposto alle 3 e mezza di notte, Antonella lo so che ti ho detto che soffro di insonnia, ma diciamo la verità, alle 3 e mezza di notte di solito pure io dormo, magari poco, ma un pochino dormo anche io ogni tanto. Questo non va bene, c'è anche un modo, una specie di arte sottile per far star bene quelli che ti stanno aiutando, cioè anche una vittima che ha bisogno di aiuto può risultare gradevole, ma bisogna che abbia certo approccio. Hai presente quei vecchi film americani pieni di bontà, natalizie familiare, magari in periodo di Natale, immagina di questa scena che sicuramente abbiamo visto in molti film, l'uomo che non ha bisogno di aiuto perché è un gansio razzo, che sta per tornare a casa alla sua famiglia la sera di Natale e incontra il barbone, bisognoso di aiuto e allora gli dà dei soldini, magari anche un po' di più del normale visto che è Natale e allora quest'uomo gli dice che Dio la benedica, Mr. Johnson, è un nome di fantasia, è solo perché non mi ricordo il nome autentico di quella scena, che Dio la benedica, che Dio benedica la sua famiglia e tutti noi, Buon Natale e poi se ne va con i soldini, questo è il mondo giusto, il signor Johnson sarà stato molto contento di aver dato quei soldi, si sentirà molto generoso, avrà avuto il buon augurio di quell'uomo che ha aiutato così tanto e festeggerà un bellissimo Natale, ma non sempre va così, soprattutto se non si è in un film americano degli anni 50, può succedere che tu incontri una persona e gli dai il soldino e questa persona dice grazie, ma da mai un altro, dai un altro, cattacosti e dai un altro, un altro, un altro e tu gli dai un altro, ma l'altro ancora, alla fine decide no e lui ti maledice pure che sei una persona egoista, così gli dà due soldini e ti sei beccato l'egoista, il punto è che quel barbone non dà più una lira, è quel discorso, perché non ha saputo gestire questo approccio dell'avere bisogno di aiuto nel modo corretto, bisogna far star bene un pochino anche chi ti aiuta e tu questa testa sottile per ora non ce l'hai purtroppo, sai ho conosciuto altre persone in questa spirale di depressione che allontana tutti e quasi sempre ha cercato di aiutarle, al punto che mia sorella che conosce certi miei retroscena mi ha detto se proprio tu te le vai a cercare queste persone, non è che le vado a cercare, è che quando vedo una persona che sta male e abbandonata a tutti mi viene istintiva a aiutarla, ma poi alla fine mi accorgo che neanch'io da solo posso fare un miracolo, perché in questa spirale, in questo gorgo, in questo giro vizioso non ne esco, c'è la storia di questa mia amica del passato, un passato lontano, lontano, forse addirittura eravamo nell'altro millennio anche se era 1999 forse, in pratica è successo questo, c'era questa amica che conoscevo io altre persone che era in un pessimismo continuo, continuava a minacciare il suicidio e arrivò addirittura a fingere di avere un tumore al cervello, si rasò a zero i capelli per far credere che stesse facendo la terapia, come si chiama, per combattere il tumore e non era vero niente, si scoprirà più tardi, era sempre lì che piangeva, che diceva che tutto fa schifo, a turno molta gente ha cercato di aiutarla senza risultato, anche io non ho ottenuto niente, poi dopo anni la ritrovo che era cambiata, era uscita dal gorgo, dal giro vizioso e poi ci confidò in modo sorprendente che la ragione, la persona che l'aveva aiutata di più non era stato uno dei molti amici, fra cui anche me stesso, che ha cercato di aiutarli stelle vicine mentre era giù nel gorgo, ma invece un famoso bastardo, un gran bastardo, che non è gentile con nessuno e che ha sfanculato anche lei dicendo pianta di fare la vittima, piagione queste cose qua, alla fine lei ammese che le aveva aiutato di più quel gran bastardo che non tutti gli altri che cercano di aiutarla, perché gli altri così facendo incoraggiavano quasi il suo comportamento autodestruttivo, lei sapeva che piangendo molto, prima o poi trovava qualcuno che la consolava e tirava avanti, mentre invece no, non bisogna tirare avanti in quella direzione, bisogna cambiare direzione, ora vedi io non posso fare il gran bastardo e ricopriti insulti così che non lo farei mai, però ti posso dire, c'è una certa quantità di gran bastardo in giro, potete trovarne uno e sarebbe una grande soluzione per te, ma devi soprattutto capire, la consapevolezza di capire che non si può andare avanti così, commetti troppi errori, per esempio quella cosa che tuo figlio anche lui ti ha da tempo bloccato e non ti risponde neanche al telefono etc., mi hai raccontato molti episodi di come si è comportato male con te, ma io sono un po' sorpreso, tu quella volta gli hai fatti anche un bel regalo e lui ti tratta male, di solito uno almeno non accetta il regalo in quelle condizioni, più che prendere il regalo e dire vai via brutta strega, è strano no? Ho l'impressione che tu abbia commesso qualche errore anche nel momento in cui davi il regalo e almeno uno di questi errori me l'hai confidato, quella volta che tu sei finito all'ospedale e lui dopo tanto tempo che non ti veniva mai a trovare è venuto a trovarti, era un atto gentile, un atto distensivo per fare la pace con te, e tu che cosa fai? Come approfitti di questa sua visita? Di chiedergli spiegami perché mi odi tanto, non è una bella domanda, la fai sentire in colpa, lui era venuto da te e tu ricomincia a litigare con lui per chiedergli come mai ti odia tanto, sono errori Antonella, purtroppo sono errori, e io credo davvero, ripensando a quella mia vecchia amica, che fare diciamo così da spalla su cui piangere, sempre disponibile quando capita anche a tre di notte, non ti farebbe affatto bene, perché alla fine continui a tirare avanti in questa direzione, tu invece devi ritrovare ad avere buoni rapporti con tuo figlio, tua nuora, le tue vicine di casa, una volta mi raccontavi di quanto erano gentili, poi chi si è arrabbiata con loro, ok, chi si arrabbia si può fare pace, però devi farlo mentre non sei ubriaca e mentre fai nel tuo periodo migliore, è in quel momento che devi cercare i rapporti sociali e di migliorarli, non quando sei ubriaca e fradice e disperata, perché non sei gradevole in quei momenti, nessuno riesce a starti vicino, questo fatto di mostrare il lato migliore e nascondere quello meno buono, lo fanno tutti, è normale, anch'io lo faccio, anch'io ho un Dottor Jackie e un Mr. Hyde, cerco di mostrare il Dottor Jackie per fare il simpatico così bravo, così la gente mi trova simpatico, ma quando sono Mr. Hyde non mi faccio vedere da nessuno, perché la gente potrebbe trovare strano quello che faccio, o terribile, non è che ammazza la gente, ma in quel periodo lì sono un po' meno gradevole, e allora mi isolo e a volte vengo qui nel mio pensatoio o in altri posti oscuri, è normale, ma bisogna farlo, io non posso sentirti per due ore solo a parlare di tutte le persone che ti hanno trattato male, anche perché uno poi se lo chiede, come mai ogni singola persona che ti incontri tratta male, non può essere un complotto globale, c'è qualcosa in te che evidentemente suscita questo, tu devi rendertene conto, a me dispiace tanto di averti chiusa fuori così, ma già ho fatto un'eccezione con te, che è andata avanti per 2-3 anni, perché parecchio che ci sentivamo, e adesso il motivo per cui chiudo tutto, che tu penserai è stato così terribile questa telefonata notturna, non ti ho risposto perché dormivo, me la sono accorto di mattina, ma in pratica sì, è stato terribile perché poi sapevo che ci sarebbe stato un seguito, che avrei dovuto telefonarti, anche perché nel solito messaggio dici nessuno mi ama, questo è quello, voglio dormire tanto tempo, che non è proprio come quell'altro messaggio addio, me ne vado per sempre, che era più chiaro il messaggio del suicidio, ma lasci sempre questa idea che sei lì per suicidarti, quindi avrei dovuto telefonarti e magari ti trovo ubriaca e avrei avuto una telefonata angosciante e incomprensibile, in cui non sarei riuscito a tirartile anche su, questo non va bene, io non ce la faccio più perché non ho più quella riserva di pensieri felici che avevo una volta, non ce l'ho più, l'ho esaurita, probabilmente con mio fratello, e quindi adesso non sono più in grado di aiutare una persona che è in quel gorgo, però ho cercato di farlo adesso dandoti dei consigli, che questi consigli possono essere utili, si fa un po' di sforzo a non chiamare qualcuno quando si sta male, ma se stai male in quel modo lì purtroppo rovinerai un altro rapporto ogni volta che lo fai, non dovrebbe invece essere così faticoso a cercare i contatti quando stai un po' meglio, solo che il ruolo della solito quando stai meglio ti arrangi a stare da sola, ma è sbagliato, è in quel momento che mostri il lato migliore di te, quello che è simpatico, può piacere alla gente, è lì che devi cercare di ristabiliare i buoni rapporti con la tua famiglia, amici, amiche, vicine di casa, etc. A me dispiace tanto averti escluso così, ma purtroppo devo fare delle scelte, devo mantenere un certo livello di sanità mentale per poi aiutare anche i miei familiari e io sono veramente sul punto di impazzire, faccio sogni molto strani e ho una strana rabbia che aumenta ogni giorno che passa e io ho due elementi in me, ma c'è anche un supervisore che controlla tutti e due, la parte razionale e la parte emotiva e il controllore ha detto qui c'è qualcosa che non va, Houston abbiamo un problema, abbiamo un problema perché la parte emotiva sta per schioppare e quindi no, razionalmente ho dovuto scegliere di interrompere questo rapporto perché era troppo logorante per me in questo periodo, non ti sto neanche dicendo, non ci sentiremo mai più che il resto della vita, ti dico adesso con tutti i problemi e le cose che ho e la mia capacità di sopportazione adotta al minimo, non posso essere tirato giù in quel gorgo senza fondo di risperazione, in questo periodo non ce la faccio, l'ho fatto tutta la vita con un sacco di persone, ma ho esaurito le mie risorse, il mio carburante di ottimismo per riuscire a ammortizzare tutta quella negatività. Provo a seguire i miei consigli Antonella, mi dispiace tanto, ma è l'aiuto maggiore che ti posso dare dire di cambiare, cerca di rimettere a posto i tuoi rapporti quando sei di buon umore e non sei ubriaca e cerca di stare lontano al telefono quando invece sei in crisi nera perché a quel punto sei una persona veramente difficile con cui parlare, mi dispiace tanto purtroppo, poi dopo non ho dormito niente, la notte successiva è andata così, il fatto è che non posso aiutare tutti, alcune persone sono più difficili ad aiutare di altri, comunque la mia speranza è che un giorno starò meglio anche io e magari potrebbe capitare che ci risentissimo, ma a quel punto vorrei sentirti dire, come era successo a quell'altra mia amica che stai ad avere un po' meglio, che hai ricominciato a stabilire i rapporti con un'altra persona, magari perché hai incontrato anche tu questi fantastici gran bastardi che ti ha risolto tutto. Mi dispiace tanto Antonella, non so neanche se non metterò un video così patetico, ma è che purtroppo ti avevo mandato un messaggio su Whatsapp più lungo e articolato, solo dopo mi sono reso conto, mi sono ricordato e non avevi detto che non hai più Whatsapp e quindi quel messaggio non l'hai ricevuto. e mi sembrava brutto escluderti senza darti nessuna spiegazione, questo video magari lo vedrai più avanti, non appena avrai internet o cose del genere. Questo non è un addio, è un arrivederci a chissà quando, ma io vorrei davvero che tu provassi a cambiare un po' la tua vita, perché ho visto troppe persone sprofondare in quel gorgo e non vorrei che capitasse anche a te. E qui ti saluto e ti do un ultimo abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie.